Buona serata, ci troviamo qua a Genova IV Monumento, come puoi vedere là in fondo il monumento di Genova IV, lì Garibaldi eccetera eccetera, qua lì sotto c'è come ti dicevo il Monu Cafè e qua sotto come puoi vedere hanno messo in piedi da poco un altro lounge bar che qua sul mare è decisamente caratteristico, poi di là vedi come puoi vedere in lontananza c'è il promotore di Portofino che si intravede qua da questo lato della passeggiata, è un punto molto carino e suggestivo questo, oltretutto guarda il tramonto verso ovest, di là sto inquadrando verso Savona, tieni conto che da qua l'ultimo oggi c'è una bella visibilità si vede praticamente fino a Capomele che è quello là in fondo perché poi oltre Capomele non si vede perché la costa cambia concavità e quindi lì è dopo Savona, quello che sto inquadrando lì adesso è il Golfo di Savona e dopo arrivi a Capomele e poi dietro c'è la provincia di Imperia poco poco oltre, ma lì la costa appunto come ti dicevo cambia concavità e non puoi vedere e non puoi vedere quella zona lì, io qua da via 5 maggio zona di Genova Est ti saluto e buon proseguimento di serata.